La felicità 2 La penultima puntata di E' Arrivata la felicità 2. La seconda stagione della fiction di Raiunonun è riuscita a vissare il successo della prima, probabilmente a causa del cambio di registro. La malattia della protagonista Angelica ha tolto leggerezza alla serie. I continui cambi di programmazione, e, infine, la collocazione alla domenica pomeriggio le hanno dato il colpo di grazia. I colpi di scena si sono susseguiti anche nella puntata andata in onda ieri. Angelica e Orlando erano molto preoccupati per l'esito degli ultimi esami fatti dalla donna, ma è andato tutto per il meglio. Può affrontare l'ultimo ciclo di chemioterapia. Nunzia ha scoperto di non poter avere figli. Una notizia devastante. Come fare a dirlo a Pietro? Valeria e Rita, messi da parte di sapori e incomprensioni, sono pronte a ricominciare. Laura si è resa conto di essere ancora innamorata di Umberto. Bea vuole riconquistare Simone, ma scopre che il ragazzo frequenta un'altra, e che con lei vuole avere solo un rapporto di amicizia. Giovanna ha lasciato Anton Giulio per tornare da suo marito e dalla sua famiglia. È arrivata la felicità a due, penultima puntata. Angelica è guarita. Pigi è scappato di casa con Deborah e Orlando ha capito di aver trascurato troppo la sua famiglia negli ultimi tempi. Francesca è assente, è ancora scioccata dopo aver trovato Luca con un'altra ragazza. Angelica e Orlando sono in ospedale. La donna, prima di iniziare l'ultimo ciclo di chemioterapia, deve fare tutti i controlli del caso. Orlando, per farla distrarre, le racconta la storia d'amore ambientata negli anni venti in Argentina, tra la bella paloma, e il forestiero Encantado. Laura, scoperto il doppio gioco di Umberto, decide di vendicarsi. Con uno scambio di si manda Gaia e Umberto negli spogliatoi della scuola. Il vidello li sorprende mezzi nudi e li manda in direzione. Nunzia rifiupa la proposta di Pietro di adottare un bambino. Nel secondo episodio quando ho detto la bugia, Angelica ha paura di non essere guarita e chiama alla sorella per farsi consolare. Umberto, Pigi, Bea e Laura organizzano una festa a sorpresa per Angelica. Ci sono tutti tranne Nunzia e Pietro. Nunzia, dopo il dramma, ha cambiato idea e ha deciso di adottare un bambino con Pietro. Angelica affronta l'ultimo ciclo di cure. L'appuntamento con la penultima puntata di È arrivata la felicità 2 è per domenica 22 aprile alle 16.30 su Rai 1. .